Il padre è Luigi Piccaluga, chitarrista e autore jazz più noto come Gigi Concato. A sua volta figlio dei cantanti lirici Nino Piccaluga e Augusta Concato. Come il genitore, quindi, è dal cognome di quest'ultima che Fabio trae lo pseudonimo. La madre è invece una giornalista e poetessa. Muove i primi passi nel mondo della musica nel 1974. Quando insieme agli amici Bruno Gracieffa e Giorgio Porcaro forma il gruppo cabarettistico e i Mormoranti, in cui Fabio scrive testi e musica e inizia a esibirsi nel celebre locale derby di Milano. È scoperto da Walter Gwertler, che lo mette sotto contratto per la Armoni, etichetta del gruppo S.A.A.R., per cui incide nel 1977 l'album Storie di Sempre che contiene il singolo A Dean Martin, che ottiene un buon successo radiofonico e di vendite. Nel 1978 partecipa all'incisione dei cori nel 45 giri UFO-Robot Shooting Star, rispettivamente sigla iniziale e finale della prima serie televisiva match arrivata in Italia, Atlas UFO-Robot, e di altre canzoni nell'LP omonimo della serie. Pubblicato dalla Fonit etc., infatti è interprete solista nella canzone Procton ed autore di Rigel. Cantata da Michelle Tadini alias Alberto Tadini. Ex solista dei Gens, dopo un altro album per la Armoni. Svendita totale nel 1978. Passa la Philips, per cui incide nel 1979 zio Tom, la cui titol track verrà poi ripresa nel 1990 anche da Mina per il disco Ti conosco mascherina.